Un omicidio in famiglia. A uccidere Alessio Cini la mattina dell'8 gennaio sarebbe stato il cognato che divideva insieme a lui a un vicino questa villetta d'Aliana. È stato fermato dai carabinieri questa notte dopo 10 giorni di indagini. L'accusa, omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dall'avere agito con sevizie e crudeltà. Il movente economico. Secondo le indagini l'uomo voleva entrare in possesso dell'eredità della vittima quella mattina poco prima delle 6 ma Iorino l'avrebbe colpito con una spranga alle spalle poi a terra calce al torace e infine mentre era ancora vivo gli avrebbe dato fuoco. Fin da subito gli investigatori avevano ristretto la cerchia dei sospettati intorno a questa villetta. A uccidere Alessio poteva essere solo qualcuno che viveva qui dato che dalle videocamere di sorveglianza non si vedeva nessuno arrivare. Prima i sospetti poi però tramite alcune intercettazioni ambientali all'interno dell'auto di Daniele si è arrivati al fermo. L'uomo mentre era alla guida dell'auto parlava tra se e se ricostruendo le varie fasi del delitto. Per questo ieri nel tardo pomeriggio è stato convocato in caserma nella notte poi il fermo. Lui che parlando con i cronisti aveva puntato il dito prima contro l'ex moglie di Alessio poi contro il vicino per alcune discussioni che erano stati in passato? No 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 nessun commento grazie salve. Daniele che alcuni giorni fa rimaneva sorpreso dal fatto che i carabinieri gli avessero chiesto di consegnare gli abiti che indossava nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. E' stato sentito dai carabinieri? Certo mi hanno preso anche vestito invece che. E ora qui resta solo il silenzio di un'intera famiglia che soffre.